Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo questa splendida maglia speciale per l'Arsenal per la stagione 22-23 in edizione FAN. Fonare il nostro corso gratuito www.mesmerism.info che bella questa è stupenda nella mia classifica prende 5 stelle questo abbinamento di colori mi piace tantissimo la rifinitura in oro da un tocco stupendo vi ricordo che il costo lo vedete qui sopra molto basso soprattutto perché in descrizione trovate anche un coupon per ottenere uno sconto di 3 dollari qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere quali splendide offerte vi attendono vi ricordo di sostenerci mettendo un like e iscrivendo vi al canale è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan